Cinque vittorie ed una sconfitta. Il bilancio del palacanestro di Capitanata nello scorso weekend. In Serie B l'Allianz Sansevero ha superato a domicilio senza grandi difficoltà, secondo pronostico Monteroni. I gialloneri hanno vinto di 11, 84 a 73, primi tre quarti, 32 a 22, 61 a 49, 78 a 68 e ultimo parziale si pensi soltanto 6 a 5 per i gialloneri. Sugli scudi è in doppia cifra Di Marco, Icangi e Ciribeni 14 punti, Cecchetti e Lossi 10. In classifica il quintetto Di Piero con sale al quarto posto staccando momentaneamente Campli che deve però recuperare due partite e si porta a due lunghezze da Biceglie e Pescara. In C-Silver Manfredonia fa suo il derby con Viesti 82 a 79 dopo un overtime. L'Udas Castellano ci regnò la conquista anche se di misura a Monopoli la sua 22esima vittoria consecutiva 77 a 76 e continua la straordinaria corsa al vertice. Occorre un supplementare anche alla Diamond Foggia per espugnare il parquet del Mola, finale 93 a 88 per il quintetto di Vigilante. Dopo una splendida rincorsa vince infine anche l'Olimpica Cerignola in casa con Ruvo, 101 a 83. Dopo una volta parola Awwvärda! вид